Figlia mia! Mia delicata creatura! Io, il tuo Giovanni, sono venuto qui per continuare a distruirti. Ciò che l'angelo mi mostrò per il tempo della fine, prima che Gesù tornasse, nella sua seconda venuta, il suo ritorno, figlia mia, è ciò che ora avviene nel vostro mondo. Vivete nella fine dei tempi, amati figli, e dovrete sopportare ancora molta sofferenza. Figlia mia! L'angelo mi mostrò le famiglie e le creature della fine dei tempi, cioè io, il tuo Giovanni Vidi, ciò che accadde in molte famiglie della fine dei tempi, perché l'angelo mi mostrò ciò che il diavolo fece per dividerle e portarvi discordia. Vidi molta violenza, molte lacrime, molta rabbia e incomprensione. Vidi come i figli soffrivano e vidi come i coniugi soffrivano. Vidi che il diavolo mise grande discordia nella famiglia. E vidi come la preghiera nella famiglia riusciva a scacciare la discordia. Essa si dissolveva e regnava pace e amore. Ma il diavolo continuava a venire da loro. E quindi bisognava pregare molto. Ed erano le preghiere fatte insieme. E l'andare a messa insieme. Che tenne unita la famiglia. Il santo angelo mi mostrò sempre nuovamente il grande potere e la forza che aveva la preghiera insistente. Vidi tante creature. Figlia mia. Erano molto confuse. Molte erano sole nonostante fossero circondati dalla famiglia e dagli amici. Il loro interno però era vuoto. Cercavano di riempire questo vuoto. Di queste ce n'erano molte. Molte. Ma io oggi parlo di quelle che riempirono. Vollero riempire il loro vuoto con perversioni. Mutilazioni e cambiamenti di sesso. Crescevano nelle loro perversioni ed erano per me come persone smarrite. Che si impantanavano sempre di più. Insistevano nel dire che ora erano felici ma vivevano uno stato di confusione particolare. Innaturale e non creato da Dio. Essi esigevano sempre più diritti. E questi secondo i disegni del maligno. Perché il maligno usava il loro smarrimento e le loro perversioni in modo che si allontanassero sempre più da Dio. E presentassero come giuste e buone queste perversioni anche ad altri. Incoraggiandoli. Ciò che l'uomo fece con il proprio corpo era per me inconcepibile e chiesi all'angelo come ciò poteva essere possibile. L'angelo mi mostrò sempre più perversioni. E come la cupidigia e le pulsioni presero il sopravvento sulla ragione donata da Dio. Sì. La dominavano. Era tremendo per me vedere questo e l'angelo mi rispose. Tutto questo. Mio Giovanni. Mi disse. È diventato possibile perché l'uomo si allontanò da Dio. Non ascoltò più il Signore e Creatore e si mise al primo posto. Si allontanò da Dio. Il suo Creatore e non volle sapere nulla di Gesù. Lo scartò come una piacevole favola e si compiacque di se stesso. Solo per questo ciò divenne possibile. Perché là dove Dio non c'è più. La regna il caos. La confusione. Figlia mia. Questo mi disse il santo angelo del Signore e Creatore. La creazione figlia mia è stata fatta perfetta e unica. Ma l'uomo, colui che si ribellò a Dio, come suo figlio ed erede corre smarrito per questo mondo. Si compiace nelle pulsioni, dipendenze e perversioni, e si trasforma in un essere che si allontana sempre più dalla sua origine divina. Vive nell'adesso e nell'ora, e riempie il suo vuoto interiore proprio con queste perversioni, pulsioni e dipendenze, e con tutto ciò che è passeggero. Egli non vive in unità con Dio, figlia mia. E andrà perduto come il miscredente. Chi preferisce questo mondo all'eternità si toglie da solo dal regno del Signore. Egli lo fa di suo pugno. Il santo angelo mi mostrò e spiegò tutto questo. Dio è misericordioso ma chi coscientemente si allontana, chi non vuole sapere nulla di lui, chi si concede al mondo, alle cose passeggere, non troverà la via per il Regno Celeste. È confuso. Questa è la triste verità che io vi porto. Ma vi dico. Pregate per la conversione, perché con la conversione anche il più smarrito di tutti voi, non andrà perduto. Ma la sua conversione è il presupposto. Io, il vostro Giovanni, vi porto oggi questo messaggio. Pregate per voi e pregate per i vostri cari. Perché grazie alla preghiera molti figli smarriti troveranno la via vera e il Regno Celeste. Il tuo Giovanni. Apostolo e, prediletto, di Gesù. Amen.